Innovazione tecnologica ed energy management per una gestione consapevole dell'energia, come funziona? Funziona che l'efficientamento prende fuoco e noi siamo i vigili dell'energia, cioè è un modello che è stato possibile attuare e ci ha permesso di individuare le criticità relative all'uso e al consumo dell'energia, definire gli indicatori di efficienza energetica e definire anche un piano strategico di azioni da attuare nei prossimi tre anni. Cosa è stato possibile fare attuando questo modello organizzativo ispirato alle norme internazionali per la gestione dell'energia? Raccolta dati per la caratterizzazione dell'edificio in pianto di circa 300 sedi a livello territoriale poi formulare degli studi di fattibilità e delle proposte di soluzione di efficientamento energetico di queste sedi grazie agli energy manager sparsi in tutto il territorio nazionale e obiettivo già raggiunto, efficientamento delle sedi della Campania e della Calabria e per i prossimi triennio l'obiettivo che ci proponiamo è quello dell'efficientamento del 100% delle nostre sedie d'uso governativo.